Penso che questo abbia un effetto negativo nel senso che distoglia l'attenzione dal problema che contiene questo problema. La dittatura finanziaria contiene la dittatura sanitaria. Quindi io spingo gli altri ad andare più avanti, non più indietro. Non parliamo, sicuramente a mio avviso il Green Pass non è costituzionale. L'interpretazione dell'articolo 32 della Costituzione porterebbe a rendere obbligatorio sul serio se è valido il vaccino per tutti, ma non a negare il diritto al lavoro, il diritto a fare certe cose senza che poi ci sia l'obbligo. Se ho l'obbligo di vaccinarmi e allora va bene, basta, c'è l'obbligo per tutti, se in quanto il vaccino serve e questo lo devo dire io, ma se non sei vaccinato tu non vai a lavorare oppure non puoi fare certe altre cose, questo mi pare che sia in contraddizione, sia un po' un espediente caosidico per ottenere dei risultati positivi, chiaramente, se è veramente il vaccino è valido, piuttosto che essere liberi e dire le cose così come stanno. Insomma, questo è il mio punto di vista. La linearità non mi sembra proprio sia stata seguita in questo aspetto dal governo che ci governa.